scarta la carta scarta la carta guardate che belle ragazzi in metallo guardate sono delle petanine questa è la mia bici vedete c'è per mettersi seduti comedamente sarebbe carino qua avere la possibilità di appoggiare il piede ora con diciamo delle fascettine io metterò delle fascettine gommate in modo che non ruvino il telaio in modo che più o meno a saltezza io c'erò la possibilità di inserire la vite passante quindi sta fascetta che abbraccia più o meno il coso in maniera tale che mio figlio mettendosi seduto abbiamo un comodo appoggio per i piedi pagati mi sembra 3 euro e qualcosa compresa spese di spedizione per internet delle petanine per i piedi molto molto carine in questo caso queste le ho comprate su aliectress ci hanno messo più di un mese ad arrivare dicendo è conveniente di comprare in italia beh come convenienza di prezzo no questa è gommosa vediamo un po che tipo di gomma c'ha eh sì ma non è gommosa ha l'aspetto gommosa ma è comunque un materiale ferroso tutte belle cromate con sta vite passante vedete qui ad esempio se io passavo qui dentro ah potrei anche farlo e se io passo la vite e tolgo questa vite qua e ci metto questa potrei avere l'appoggio piede qua l'unica cosa che devo fare perché questa è l'attacco vedete del portapacchi l'unica cosa devo controllare se la è un punto giusto per il piede e se il buco è abbastanza è dello stesso calibro no non è lo stesso calibro vedete se non avevo già risolto però ci sono delle fascette che io ho comprate sempre su aliectress sempre lo stesso giorno quindi immagino che ormai arriverà domani dopo domani delle fascette di gomma che vanno qua sopra veramente sono costate poco cioè di gomma internamente ma esternamente d'acciaio dove io poi metterò metterò questo qua e quindi creerò un appoggia piedi poi qua invece di una rondella metterò una specie di mega rondella un cerchio insomma grande ed è un materiale vediamo un po leggero che potrebbe essere anche non lo so anche una plastica in maniera tale che mi fa da para per i raggi che mi impedisce di mettere il piede accidentalmente dentro anche se anche se insomma è già abbastanza difficile perché buona parte del suo lavoro lo fanno già le borse messe in questo modo quindi però se qui c'ho un piccolo arrontivo rondellona gigante il piede è un po più tranquillo di non rimanere incastrato anche se tutto sommato è abbastanza improbabile visto che la seduta è molto molto comoda va bene ragazzi lasciatemi un pollice in su perché a me piace condividere le vostre idee con voi ma se il video ha più successo ha più visite io sono ancora più contento un pollicino in su per piacere se vi va ciao ciao